Sono state ore di apprezzione ma alla fine tutto è terminato nel migliore dei modi. È stato ritrovato nella tarda mattinata di domenica, dopo più di 12 ore di ricerche, l'uomo di 64 anni scomparso da casa sabato pomeriggio a Lammari. La macchina dei soccorsi era scattata nella serata di sabato quando i familiari non l'avevano visto rientrare. L'uomo era uscito di casa intorno alle 15 dicendo di recarsi in chiesa, distante poche centinaia di metri dalla propria abitazione. Intorno alle 16.30, non vedendolo rientrare, la moglie si è subito allarmata, dato che l'uomo ha problemi di salute ed ha avvisato immediatamente i carabinieri della locale stazione. Sul posto per le ricerche, insieme ai militari, sono intervenuti i vigili del fuoco con due unità cinofile, oltre ad altre unità cinofile del gruppo lucchese degli Autieri d'Italia e della Croce Rossa di Bagni di Lucca e di Lucca. Impegnati anche i volontari delle associazioni antincendio e i vigili urbani di Capannori. In tutto, una trentina tra volontari e forze dell'ordine hanno scandagliato la zona. Le ricerche sono state particolarmente difficoltose a causa della fitta nebbia che per tutta la mattina di domenica ha coperto la zona. L'uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata nei pressi dell'azienda Ascit. In buono stato di salute, anche se è trascorsa la notte all'aperto, il pensionato è stato portato in ospedale per accertamenti.